Il caso giudiziario sulle morti sospette nella RSA di Offida si avvia verso il terzo grado di giudizio. Dopo l'assoluzione in appello di Leopoldo Vic perché il fatto non sussiste, il procuratore capo di Ascolipiceno Umberto Monti commenta con lanza la sentenza del 6 dicembre scorso. Sono convinto che nelle carte del processo ci siano elementi più che sufficienti per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, i cui diritti sono stati rispettati in ogni fase dell'inchiesta sui decessi avvenuti nella RSA di Offida. L'infermiere sessantenne di Grotta Mare, secondo l'accusa, è responsabile di una serie di omicidi volontari e di tentati omicidi per aver somministrato indebitamente farmaci ad anziani pazienti della struttura dell'Ast. La Corte d'Assise di Macerata il 1 giugno 2022 aveva ritenuto Vic colpevole di 7 degli 8 casi di omicidio e di uno dei 4 di tentato omicidio contestati, a seguito delle indagini della procura di Ascoli che impugnò la sentenza per un caso di omicidio e per i restanti 3 di tentato omicidio per cui l'imputato era stato assolto. In appello, il procuratore generale di Ancona, Roberto Rossi, ha chiesto la condanna all'ergastolo di Vic per tutti i casi che gli sono contestati, compresi quelli per cui in primo grado è stato assolto. Ma i giudici di Ancona non hanno ritenuto fondato l'impianto accusatorio. La sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste mi ha molto sorpreso, aggiunge Monti, facendo intendere che lette le motivazioni il ricorso e incassazione della procura generale è sostanzialmente scontato. Tra le ipotesi che circolano c'è quella che i giudici d'appello abbiano in particolare accolto le contestazioni della difesa di Vic riguardo nullità, inutilizzabilità dei reperti e lesioni del diritto di difesa. Sono gli stessi motivi che erano stati sollevati in primo grado, fa notare Monti. Tutte le analisi e i campionamenti sono stati effettuati prima che i rispettivi procedimenti venissero iscritti. Dunque nessuna nullità e nessuna lesione dei diritti di difesa, obietta il procuratore, che si sofferma infine su un caso che ritiene emblematico. Nel sangue di un anziano deceduto e sottoposto ad autopsia c'era insulina retardo somministrata indebitamente visto che non era diabetico. Il giorno successivo alla morte nello zaino di Vic trovammo proprio insulina retardo occultata in un flacone recante un'etichetta diversa di cortisone. Per noi, sottolinea Monti, questa è una prova decisiva.